Ogni volta che Nobita escogita qualche nuova maracchella, quasi sempre poi tutto si trasforma in una sinfonia di guai e grossi risanti! Nobita, ma che combini! E come sempre poi tocca a me risolvere tutti i suoi pasticci! Papà, ne spieghi di piangere! Basta! Doraemon, i nuovi episodi! Da lunedì alle 17.35 su Boeing e sulla Boeing App!